Nuova nomina per il dottore Emilio Malandrino, nella veste di commissario cittadino di Forza Italia d'Agropoli. Mi adopererò con tutta la mia consueta passione e le mie energie a ricostruire un'aggregazione di donne e d'uomini forte, rigorosa e consistente sul territorio, capace di guardare alla politica con spirito di servizio e dedizione verso la cosa pubblica, riaffermando quei valori di democrazia e libertà da cui il nostro partito è nato e da cui, oggi più che mai, si ispira, spiega Malandrino. Nei prossimi giorni, unitamente all'amico Gianluigi Giuliano, rappresentante fondatore di Forza Italia d'Agropoli e già consigliere comunale, ai simpatizzanti militanti storici, comporremo l'organigramma del direttivo e della squadra dirigente, che guiderà il percorso del gruppo. Siamo certi che riprenderemo le battaglie portate avanti in questi ultimi anni in consiglio comunale e non solo, con particolare riferimento all'ultimo decennio e dallo scorcio dell'ultima consigliatura, dove tanti, e forse troppi, sono stati problemi e le criticità da noi evidenziati, a cui ancora non sono pervenute risposte esaustive ed adeguate, conclude così il dottore Emilio Malandrino.